ciao miei cari amici oggi prepariamo un buonissimo plum cake al limone fresco è buonissimo andiamo a vedere insieme gli ingredienti per preparare questo buonissimo plum cake occorrono farina 280 grammi 100 grammi di zucchero bianco 70 ml di olio di semi una bustina di lievito pan degli angeli due yogurt bianchi ho preso questi qua due limoni scorza e succo allora cominciamo versando i liquidi quindi verserò il limone l'olio lo yogurt mescolare un pochino l'olio trova certo è una bella cosa delle burcatele ok andiamo a mescolare un po' uniamo lo zucchero la scorza di limone e la farina amici scusatemi ho dimenticato di dire che bisogna aggiungere anche un bel bicchiere di latte il mio è sempre un latte vegetale mi era sfuggito andiamo a mescolare il tutto e infine uniamo la bustina di grido comunque giù in descrizione troverete tutte le dosi e tutti gli ingredienti corretti il nostro impasto per il plum cake è pronto lo vado a versare in uno stampo dove ho semplicemente spennellato un filo di olio di sini senza farina senza niente ora andiamo a versare dentro aiuto con una scattolina a versare in uno stampo ecco in forno 180 gradi per una mezz'oretta dopo vi faccio vedere il buonissimo risultato grazie a tutti